Le divisioni tra cristiani sono un ostacolo all'evangelizzazione, lo ha ripetuto Papa Francesco ricevendo il vertice del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Il Papa ha elogiato il cammino ecumenico percorso ed ha sottolineato che la via verso la comunione piena e visibile è un cammino che risulta ancora oggi arduo e in salita. Lo Spirito però ci invita a non avere timore, ad andare avanti con fiducia, a non accontentarci dei progressi che pure abbiamo potuto sperimentare in questi decenni. In questo cammino ha concluso il Papa, solo con spirito di preghiera umile e insistente si potrà offrire il nostro servizio alla famiglia umana, in tutte le sue debolezze e le sue necessità sia spirituali che materiali.